buongiorno oggi siamo a civita nova e vi presento una nuova iniziativa che si terrà nel mese estivo parliamo di centri estivi siamo arrivati primavera avanzata e è ora di cominciare a pensarci sono a civita nova come dicevo ospite del centro sportivo antropos che dove si terrà il summer camp di donkey joe english una scuola d'inglese che ha organizzato dei bellissimi campi scuola delle settimane di campo scuola dedicate ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni la struttura è veramente bellissima ci sono siamo immersi nel verde ci sono campi sportivi c'è molto spazio siamo all'aria aperta e il camp il summer camp è totalmente in lingua inglese e quindi si svolgeranno tantissime attività si si spingeranno i bambini ad imparare giocando e verranno accolti dalla mattina alle 8 e 30 fino a verso l'ora di pranzo le 13 oppure anche alle 16 quindi una giornata intera immersi in questo contesto veramente splendido siamo a civita nova alta non proprio al paese un pochino più sotto a cinque minuti dalla civita nova dalla costa e vicino anche al paese alto e il posto è veramente facile da raggiungere ed è veramente bello gli spazi sono ampissimi per cui anche quest'estate con i problemi che avremo per l'organizzazione per le regole del contrasto al covid non ci sono problemi perché i bambini saranno organizzati in in piccoli gruppi saranno suddivisi per età e saranno rispettate tutte le norme per il contrasto al covid e allora come funziona il centro donkey joe english il summer camp le attività ogni settimana ci sarà sarà dedicata un'attività diversa le attività si basano su un metodo di studio sperimentato e gestito da professioniste da educatrici professioniste e il programma prevede anche attività motoria giochi individuali giochi a squadre e ci si sposterà nei campi sportivi e c'è anche la struttura di accoglienza che vedete qui dietro di me si potrà fare il pranzo e sarà praticamente una bellissima esperienza perché si potrà imparare l'inglese giocando giocando all'aria aperta in un contesto come vi dicevo veramente splendido molto molto grande dove si può stare in sicurezza e si può imparare appunto divertendosi si inizia a giugno e dal 28 giugno al 30 luglio troverete poi tutte le informazioni nella pagina facebook di donkey joe english che poi taggerò nei commenti a questo video successivamente alla conclusione e potete anche vedere la struttura che è appunto il centro sportivo antropos che permette appunto di avere questi spazi così ben gestiti così ben organizzati adesso il giro vi faccio fare un piccolo giro così vediamo e ci rendiamo conto di dove si svolgeranno tutte le attività allora ecco qua questo è il campo sportivo il primo e ecco questi sono i vialetti all'interno dei quali si si potranno muovere i ragazzi i ragazzi verranno accolti inizialmente qui in questo spazio in questo in questa struttura e ci saranno lezioni giochi letture animate laboratori artistici e creativi ci saranno programmi differenti ripeto ogni settimana e soprattutto verrà dato largo spazio anche all'attività remotoria e ai giochi di squadra ecco vedete che bello proprio siamo immersi totalmente nel verde ripeto dai 4 ai 13 anni l'english center donkey joe english lo trovate sia su su facebook che su instagram e ritorno io ecco la descrizione completa del summer camp la farò in un articolo che pubblicherò a breve su mamme marchigiane e nel frattempo ci tenevo a farvi vedere questa struttura perché è veramente bellissima e questo summer camp si prospetta come una opportunità davvero ottima perché per tutte le caratteristiche che presenta quindi un summer camp di gioco che si svolge lungo l'arco dell'intera giornata e che si basa sull'apprendimento divertendosi della lingua inglese e soprattutto sull'attività motoria all'aperto di cui i nostri bambini hanno veramente tanto bisogno quindi andate a scoprire tutte le novità e tutte le particolarità di questa iniziativa nella pagina donkey joe english e a breve anche su mamme marchigiane ci vediamo al prossimo collegamento e vi racconterò un po' di più buongiorno